La vicenda dei fuori onde incriminati stava deflagrando, proprio mentre lui moderava gli stati generali sul cammino e il turismo sostenibile a Pavia. Andrea Gianbruno, giornalista di Rete 4 ed ormai ex compagno della Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, probabilmente non si aspettava di finire al centro del dibattito pubblico per le sue frasi poco eleganti. Ma si sa, le parole pesano, soprattutto quando si è personaggi pubblici e i propri comportamenti di riflesso possono danneggiare altre persone. Dopo la pubblicazione dei video, la Premier Meloni ha infatti annunciato la fine della sua relazione con il giornalista attraverso un post sui social network, mentre Gianbruno moderava il dibattito nell'aula magna del Ghislieri, tra l'altro. Proprio sui social ci si chiedeva se la sua fosse una fuga dal programma che conduce regolarmente il diario del giorno, viste le polemiche sui fuori onda trasmessi da striscia alla notizia. Non era così, dato che la sua presenza era già stata concordata settimane prima. Pavia, insomma, ha fatto da sfondo a una vicenda privata che è diventata presto di carattere pubblico e Gianbruno, che già in passato aveva avuto qualche problema per certe frasi sbagliate, come quella delle ragazze ubriache del lupo. Forse avrà tempo per riflettere sull'importanza che hanno certe parole e certi comportamenti.